Seconda sconfitta per il Legnago di questo 2014 che non parte benissimo ma certo va la sconfitta contro il Ginatese in casa. Best in area del Legnago certamente è meno pesante di quelle sette giorni prima. Pesantissima addirittura. 6 a 3 lo ricordiamo ma lo dimentichiamo anche subito volentieri. Attenzione Legnago al sesto Berberi e Maiese poi Viviani il traversone trova pronto l'intervento su primo palo Ripamonti portiere dell'Olginatese che si fa vedere dalle parti di Budicin al quarantesimo poco più del primo tempo Budicin è superato e battuto ma c'è sulla linea di porta l'intervento di Baschirotto. Il gol dell'Olginatese minuto 49 lo stacco perentorio di Barzotti in piena area di rigore su invito di Cristofoli che era sceso molto bene sulla sinistra a cercare e a trovare il traversone dal fondo. Il più pericoloso traversone quando lo si effettua da quella posizione la punizione di Nicola Valente minuto 12 del secondo tempo e poi c'è ancora tentativo al minuto 25 credo sì di Berberi questa volta. Vediamo se Berberi no è ancora lui ancora Nicola Valente la deviazione in calcio d'angolo di Ripamonti che smanaccia la palla sopra la traversa ma è Legnago che insiste nel secondo tempo a cercare il gol del pareggio. Ci prova ancora con Berberi questa è l'azione più bella prova il diagonale non va non trova lo specchio della porta da quella posizione ma forse la maggior parte dei bomber avrebbero cercato quella soluzione. L'ultima azione è di Cavallini Viviani con il sinistro ben parato da Ripamonti 1-0 Olginatese.